segnale eh ma poi si sente bene anche cosa? le video? ah non le hai mai fatti? no si però dipende anche da che cazzo vai a registrare adesso ho messo il volume più basso meno 12 tb sotto zero sotto zero te lo ricordi sotto zero? no film con l'altro sparsenegger sei fan? niente quello che correva running man niente una capra hai presente una capra? io ho avversi ho avversi Anche a te! Finché l'hanno sentita tutte le cose. Tutti li hanno ascoltati. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. a tutti. , 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 ,,, 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 ,, ,,, ,, ,,, 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 ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,,,,, Grazie a tutti. 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 a tutti. e... e... ... e... ... 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti